Qual è l'obiettivo di questo cortometraggio presentato insieme a Nava? Allora l'obiettivo oggi è quello di sensibilizzare, sensibilizzare sia a livello comunitario per essere accanto ai pazienti nel loro percorso di cura e sperabilmente di guarigione, ma l'obiettivo della sensibilizzazione è anche quello di rendere noti ai pazienti quali sono gli scenari e le possibilità di trattamento, quindi aumentare anche le loro possibilità di cura. Ecco perché la ricerca ha portato queste nuove cure che portano anche alla guarigione? In alcuni pazienti sì, in contesti di patologia dove prima c'erano delle prognosi estremamente in fausta e oggi si hanno anche delle storie di guarigione, assolutamente.